Il Museo del Mito di Enna e il Castello di Lombardia saranno le mete da visitare durante il prossimo appuntamento degli itinerari di legalità. Il progetto dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, UEPE, di Caltanissette ed Enna, realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale di Promozione Turistica, Inner Sicili. Sabato 5 novembre 2022 era prevista inizialmente un'escursione alla riserva naturale orientata di Monte Altesina, nel territorio di Enna, ma le condizioni meteo hanno inciso sulla possibilità di realizzarla, optando per un programma diverso. Si avvicina dunque il quarto appuntamento dell'iniziativa, che ha lo scopo di ricreare legami e favorire la vita comunitaria, si legge, attraverso un percorso formativo di sensibilizzazione sulla legalità per gli utenti in carico all'UEPE, con eventi, visite guidate ed escursioni nei territori dell'Ennese e del Nisseno. E ancora si precisa, la natura e l'arte in tutte le sue forme possono rappresentare infatti un potente catalizzatore di sviluppo sociale rigenerante, anche per l'acquisizione di competenze spendibili nel settore turistico e ambientale.